Ok macchia allora tu stai qua mi raccomando non ti muovere io adesso faccio tutto quanto e poi torno Oh ciao ragazzi come va tutto bene? Eccoci qua tornati nella nostra serie scusate ma stavo dando delle indicazioni al nostro gatto Perché come vedete si è posizionato in camera da letto e ha deciso che questo sarà il suo posto ed è meglio così Allora oggi come avevamo già detto faremo l'arretamento della nostra camera da letto quindi prima di tutto andiamoci a prendere un po' di roba dal nostro magazzino Vedete ho messo la mia armatura lì fuori pronta all'uso perché dentro casa mi sembrava un po' eccessivo tenerla Allora ci servirà sicuramente del legno però non so che tipo di legno usare quindi per il momento mi prendo questo poi vediamo se ci piace e se non ci piace Poi mi serviranno dei quadri Ce n'ho solamente uno allora li facciamo subito dagli altri quadri Queste ce le ho Prendiamoci anche un po' di lana Che la nostra farm di ragni con le cordicelle ce ne da un sacco di lana quindi non abbiamo problemi Ok Penso che tre quadri No facciamone di più Tanto i quadri non bastano mai Ok iniziamo Ecco il nostro cagnolino addomesticato ancora senza nome ci sto pensando Poi gli daremo un nome Allora dicevamo io innanzitutto ecco qua questo da qui lo toglierei perché macchia tu puoi anche rimanere lì Forse Allora ragioniamo un attimo se noi facessimo una libreria qua intorno Come la vediamo non lo so Intanto sicuramente volevo fare una libreria incastonata nel muro Che l'idea mi piace tanto se la mia rotellina del mouse non impazzisce Ok Vabbè li lasciamo senza nulla ecco Una bella libreria a parete che mi piace Poi dovremmo spostare anche queste luci Qui adesso invece vediamo un attimo se io faccio una cosa del genere Allora come potrebbe venire Intanto non so se avete notato ma ho fatto un po' di librerie Potremmo fare così con dei comodini più o meno Si non è male non è per niente male L'unica cosa è che Vediamo forse se la facciamo proseguire fino a su Ecco ho fatto la prima cretinata della giornata Fino a su non mi piace No Non mi piace assolutamente Quindi rompiamo un po' di roba Eh lo so dovrò rifare le librerie ma Insomma non è un grande problema Allora Macchia tu resta lì No non andare sul comodino Su Vai sul letto Vabbè Vai dove vuoi poi Ritorna sul letto Ok Con l'inserimento delle collisioni che hanno fatto nello snapshot 1.9 Cioè tra i mob Gli animali I pet Insomma gli animali Il personaggio Poche parole Vedete Se ci vado vicino Mi spinge indietro Quindi è un po' più complicato spostarlo Però non è un problema Allora Vediamo come risolvere questo piccolo problema Mi servirebbe una crafting table Ce la facciamo qua Non ho voglia di scendere giù Non ho voglia Non ho assolutamente voglia Quindi Ecco ti metterò Qui Perfetto Rifacciamoci Le nostre librerie Non così Non mi svuoto mai l'inventario C'ho di tutto e di più Scusate ma ho il mouse Che fa un attimo le bizze Non so perché Ma non importa Allora Rifacciamo questa Vabbè Queste Basta Vediamo un po' che cosa ne viene fuori Allora Facciamo delle prove con questo Così ci facciamo un'idea Così non mi piace Assolutamente Ok Questi da qui Li tiriamo fuori Perché tanto No però io ho un'ascia E non è questa Eccola qui Con tocco di velluto Ok Così non distruggiamo nulla Perfetto La potevo usare anche Ma che scemo La potevo usare per i libri Vabbè Non ci ho pensato Allora Se invece la faccio così in alto Nemmeno mi piace tanto Non lo so ragazzi Ci sto ragionando Devo andare a prendere dell'altro legno E sono da voi Allora Legno Legno Sempre questo Perché si abbina con le librerie Anche se Il legno di quercia Non è proprio il mio preferito Però Si abbina molto bene Con le librerie Quindi penso che almeno per quello Useremo Questo qui Allora Rifacciamoci le nostre librerie Eccole qua Perfetto Andiamo a posizionarle Vediamo come viene l'effetto Questo Non mi piace Però se ci mettessimo Dei dettagli Magari così Si Non è proprio malaccio Ecco Forse Un po' di luci qui dentro Ci stanno bene No Non è malaccio Cosa ne pensate Come la vedete Questa cosa Non è male Non è male Poi Io farei Allora Qui una bella scrivania Secondo me ci starebbe bene La facciamo Non così La facciamo così Ecco qua Si Non dovrebbe essere brutta Facciamoci delle altre Allora Così Ecco qui Delle altre lastre Che dovrebbero bastarci Si 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 Non è per niente male Per il momento Ci mettiamo questa A mo' di sedia E poi Studiamo qualche altra Soluzione Magari qua su Ci possiamo mettere un vaso Con delle piantine Che non è una brutta idea Vediamo Ok Adesso Passiamo ai quadri Io qua su Non qua Ma qua su Un bel quadretto Non così Ecco Ce lo vedo proprio bene Prendiamoci questo Ok Perfetto Dov'è la mia ascia Tu togliti Qui invece Questo da fuori Possiamo togliere Ma no Ho usato l'ascia Sbagliata Ma che palle Ok Ok Non disperiamo Ce lo andremo a rifare subito Eh purtroppo L'ascia Con si Ma poi non la uso Che ci volete fare ragazzi Purtroppo Capita Eh beh Allora Torniamo su Velocissimi Non voglio fare una puntata Di 30 minuti Per arredare una stanza Anche perché Se no poi diventa Un po' pallosa La cosa Quindi Allora Tu sei Ok Perfetto Lasciala Mettiamola Voglio solamente Vedere dove sta meglio Questa Se qui così Non mi piace Assolutamente Però qua Forse ci sta meglio Vediamo Ok Perfetto Adesso usiamo L'ascia Con silk touch Benissimo E rimettiamo Il nostro marmo Qui Ok Guardiamo un attimo Come sta venendo Non è male Non mi dispiace Ma sicuramente Il tocco Lo daranno Dei quadri I quadri Danno sempre Un bel tocco Questo no Questo no Questo no 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 Troppo grande Troppo piccolo Gigantesco Andiamo a raccogliere I quadri Che abbiamo disseminato Per la stanza Un quadro Più normale Non mi piace Non mi piace Per niente Forse No Oh Questo Questo mi piace Però a questo punto Io direi di Allungare la scrivania Che altrimenti Mi sembra troppo Piccolina Vediamo Se riusciamo Ad allungarla E soprattutto Vediamo Che effetto fa Non è male Magari potremmo Mettere Una poltrona Un po' più grande Ecco qua Ok Mi piace L'ho deciso Questa rimane così Perché è proprio caruccia Benissimo Poi Che cosa fare Qui ragazzi Vediamo Suggeritemi qualcosa Allora Le luci sono allineate Sì Le luci sono allineate Tranne questa Che non è allineata Quindi Via Di qua Perché a noi Ci piace L'ordine 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 È la prima cosa Ok Quindi mettiamo Dov'è la mia luce Qua Preciso Bene Mi piace Adesso Questa parete Vediamo un attimo Qua non è male Non è male Sì Magari poi Con qualche altro Abbellimento Però io ci vedrei bene Anche dei tappeti Tappeti Che farei Voglio provare Un tappeto rosso Quindi corriamo Nel nostro Super magazzino Prendiamoci un po' Di coloranti Cane Perché fissi Le casse Vai qua Ecco Respira un po' Sempre Ma sempre in punizione Sto cane È una cosa incredibile Allora Prendiamoci un po' Di coloranti vari Così Tanto per C'è un sacco Di cose Inutili Vuoi un osso? Non vuole un osso Vabbè Tiè Mangiati il pollo Bravo Cuccio Siediti Allora Questo è solo Mettiamo qua Che non ci serve In modo che mi prendo Anche il colorante Che mi manca Ok Andiamo a fare Un po' Di esperimenti Con la lana Quindi L'avevo lasciato Senza piedi Ecco Kenny Ti li ho dati? Dove sono i miei piedi? Eh Perché li hai presi tu? Ok Perfetto Il nostro Attaccapanni È pronto Allora Dicevamo Voglio un tappeto Rosso Così In modo che mi faccia Un'idea Di come viene Allora Proviamo a metterlo Qua sotto Non lo posso mettere Chiaramente Vediamo come viene Così Non mi piace Così Non mi piace Perché Perché no Allora Proviamo così Mi serve Altra lana Allora Fai così Fai così Ce ne prendiamo Un'altra Dieci pezzi Sì Facciamo degli altri Tappeti Ok Tappeziamo Tutta la stanza Allora Così Già È carino Però Tutto rosso Penso che sia Un po' monotono Potremmo fare Il centro Di un altro colore Cosa ci sta bene Con il rosso Fatemi pensare Allora Proviamo intanto Con il bianco Perché magari Con il bianco Ci sta bene Vabbè Intanto Lascio la roba qua Tanto Non se la prende Nessuno Ecco Proviamo a vedere Così come sta Sì Non è proprio male Però è anche Un po' monotono E se facessimo Una cosa più colorata Allora Tipo Ad esempio Io metto questo Metto questo Mi prendo Sì Due Penso che bastino Via tutto Facciamoci dei tappeti Ok C'è di tutto E di più A terra Va bene Ma visto che Noi non badiamo A spese Ecco qua Ci facciamo Una bella cassa Al volo Ok Mettiamo un attimo Di cose qua dentro Che non ci servono Sono pigro Lo so Mi scocciava tantissimo Scendere giù Quindi Facciamo così Tanto le casse In un modo Nell'altro Si usano sempre Vediamo un attimo Se noi facessimo Un tappeto Con più colori Come la vedete voi Come cosa Secondo me Non viene male Vediamo un attimo Allora Qua ci metterei Un bianco Si a sto punto Facciamo anche il giallo Facciamo un tappeto Coloratissimo Così almeno Mette Allegria Bene Ne potevo fare un altro Vabbè Non importa Ne facciamo No rosa non mi piace Facciamolo blu E vediamo Che cosa Abbiamo combinato Allora Qua lo mettiamo Dov'è Questo E questo Allora Qui lo mettiamo giallo Bene Ti tolgo Perché voglio il blu Non la Tappeti Sospesi nel vuoto Le strane leggi Fisiche di Minecraft Allora Qua non ti voglio Qua mettiamo Un altro giallo Qua potremmo mettere Questo Qua invece Mettiamo Un blu Qua mettiamo Un altro giallo Si Ok Qua invece Mettiamo Un azzurro Si Non ci sta male Qua mettiamo Un Un blu Ok Va bene Mi piace Mi piace Non è male Molto colorato Dai Ci può stare Ci può stare Adesso Questa parete Va abbellita Come l'abbelliamo Ragazzi Con un quadro No è troppo monotono Il quadro O meglio Il quadro ci starebbe Anche Però poi Potremmo fare Una specie di Cassettiera Così Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa stiamo creando Questo non mi piace No Così non mi piace Allora Facciamo così Si Potrebbe quasi andare Se faccio così Cosa viene fuori Una specie di Mensola Un pianoforte Una cosa Strana Come la vedete Questa cosa Non so cos'è Allora Sto riflettendo Attentamente Su cosa fare Su questa parete Però non mi viene In mente nulla Potremmo fare Delle altre librerie Ma ne ho solo tre Cosa possiamo fare Con tre librerie Se ne facessimo Tipo una cassa panca Beh così Non è una cassa panca È enorme Dov'è l'ascia Ok Tu vai bene Così Potremmo fare Una cassettiera Verticale Una cosa del genere Però così Sospesa Non mi piace Ok la facciamo Incastonata nel muro Penso che sia La soluzione Più utile Ok proviamo Sì non è male Mi piace Ok Deciso Facciamo così Qua ci andrebbe No Qua ci andrebbe un quadro Da due lungo No Eh vabbè Quando mi serve Non mi esce mai Ok Ci riproviamo No Ma dove sono Tutti i miei quadri Disseminati Nella stanza Ho perso i quadri Si sono glitchati Dove Ma che hai visto i quadri Dove cavolo Sono finiti i miei quadri Oh mio dio Uno è volato qua Eh Che siano qua No Saranno caduti giù No Ci siamo persi Un po' di quadri Eh Vabbè Ok Non fa niente No Nemmeno Che palle No No Vieni qua Quadro No Cioè questo quadro È bello Ma è enorme Non va bene lì No Mi sto scocciando No No Dove sei Oh mio dio No No Pinocchio Così non va bene Sì ok Che gigantografia Bellissimo Ma perché mi viene sempre Ok Ce l'ho fatta Questo volevo Volevo mettere un quadro così Che Alla fine fa anche abbastanza schifo Sì Non è proprio il massimo Forse questo qua Così non mi piace Allora Un po' di pazienza Che adesso finiamo di attrezzare questa stanza Ecco così Già è molto meglio Molto meglio Qua invece questo lo vedo un po' troppo piccolo Macchia È inutile che mi prendi per il culo Ci vuole tempo ad arredare una stanza Mica Si arreda così Dall'oggi al domani Questo è bello Peccato che sta messo male Allora Così no Dov'è? No Oh mio dio Questi quadri sono posseduti No Nemmeno tu Vieni qua Però questa scrivania è un po' anonima Vediamo se riusciamo Blu No Blu non mi piace assolutamente Rossa Eh rossa è carina Una bella scrivania rossa Si è vero che poi non ci potremmo mettere nulla sopra Ma tanto abbiamo i comodini per mettere Due Lampade No le lampade non le possiamo mettere Metteremo due vasetti Allora poi qua cos'altro ci resta da mettere Fatemi pensare Fatemi pensare Stanzare Questa non mi piace No è solamente un quadro Possiamo mettere Ecco mettiamo un quadro così Vabbè Diciamo che la stanza già È un pochino meglio di prima Poi magari Ci facciamo venire qualche altra idea E la sistemiamo meglio Però io direi che non ci possiamo lamentare Non si può nemmeno dormire Insomma diciamo dai ragazzi Non è male come stanza Su Perfetto La stanza Per il momento l'abbiamo sistemata Andiamo a buttare questa roba qua Poi la tolgo con calma fuori dal video E va bene La nostra camera da letto Cari ragazzi È pronta Benissimo Adesso andiamoci a mettere sempre vicino al nostro gatto Con i piedi sul letto Siamo proprio scostumati Per questo episodio lampo è tutto Spero che questo arredamento Fatto così al volo Non pensato e non premeditato vi piaccia Se avete dei consigli Scrivetemelo nel video Mi raccomando vi ricordo di Condividere questo episodio In modo da far crescere il canale Se vi è piaciuto Insomma così ci diamo tutti una mano Spolliciate E noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao ragazzi